Seconda domenica di Avvento coincide con la festa dell'Immacolata Concezione e noi ritroviamo Padre Ernesto della Corte in conversazioni bibliche. Buona domenica Padre Ernesto. Buona festa, buona domenica a voi, buona Immacolata, siamo nella seconda domenica dell'Avvento. Eh sì, quest'anno coincidono, domenica è festa di Maria. Diciamo che i vescovi italiani hanno deciso di celebrare, visto la coincidenza della data, la seconda domenica con l'Immacolata Concezione, ma anche l'Immacolata Concezione è una festa cristologica. Tra l'altro diciamolo subito che Maria di Nazareth è uno dei personaggi chiave dell'Avvento. Abbiamo i grandi profeti, abbiamo visto Isaia domenica scorsa, abbiamo Giovanni Battista, che era il testo di oggi, Matteo al capitolo 3, che presenta appunto questo ultimo dei profeti, che prepara la via al Signore. Il testo molto bello che avremmo dovuto leggere oggi è il capitolo 3 di Matteo, i versetti 1-12. Solo una parola, perché Giovanni merita di essere citato. La cosa interessante è vedere che intorno a Gesù Cristo tutti i personaggi devono riposizionarsi. Cioè anche Giovanni aveva un'idea del Messia, che era un'idea molto forte, molto zelante. porterà la scura alla radice, quindi uno zelo enorme, quasi violento da parte del Messia. Invece Gesù sarà mite e umile di cuore. Matteo al capitolo 11, versetti 25-27, la famosa perla matteana, ce lo presenta mite, umile, che non alza la voce. Uno stile di vita che è completamente diverso da quello che pensava Giovanni. Questo è molto indicativo, perché vuole farci capire che davanti a Gesù noi non dobbiamo farci un'immagine costruita da noi, ma dobbiamo davvero vedere chi è Gesù Cristo, il Messia che Dio ci ha mandato. Certo, ecco l'Immacolata, Maria ha avuto un rapporto privilegiato. Maria è la creatura che vive tra due grazie, tra l'Immacolata concezione che oggi noi festeggiamo e l'assunzione che festeggiamo il 15 di agosto. Maria sta tutto tra queste due grandi feste, perché lei è l'immagine dell'umanità, chiamata a essere salvata, lei è stata concepita senza peccato originale, poi assunta in cielo e glorificata, non conosce la corruzione del sepolcro, è la tutta santa. Lei è l'immagine dunque della Chiesa, dell'umanità salvata. Potremmo quasi dire che Maria è la donna della Pasqua, sia nel suo concepimento che nel compimento della sua vita. Il Concilio, il Vaticano II, nella Lumen Gentium, in quel famoso capitolo ottavo, l'ultimo, ci offre una bellissima immagine. Nessuna meraviglia, dice il Concilio, se presso i Santi Padri invalse l'uso di chiamare l'Amate di Dio la tutta santa e immune da ogni macchia di peccato. Ecco l'Immacolato. Dallo Spirito Santo quasi plasmata è resa nuova creatura, adornata fin dal primo istante della sua concezione, dagli splendori di una santità del tutto singolare. La Vergine di Nazareth è per ordine di Dio salutata dall'Angelo, nuziante quale che è caritomene, la piena di grazia, la trasformata dalla grazia. Per comprendere il mistero dell'Immacolata dobbiamo proprio partire da questa relazione molto forte tra Maria e Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio. Dovremmo meditare quelle parole splendide della lettera ai Romani di Paolo quando al capitolo 8, i versetti 28-30, che precedono di poco poi il grande inno alla carità, Paolo dice che tutto concorre al bene di quelli che amano Dio, per quelli che sono stati chiamati. E poi ci dà una serie di cinque passaggi, perché Dio ci conosce da sempre, ha una predestinazione su di noi, nel senso che ha un progetto di renderci conformi all'immagine del Figlio suo, poi ci chiama, ci giustifica, quindi ci salva, ci mette in un buon rapporto con lui e ci glorifica. Questo che vuol dire? Che per capire Maria bisogna partire da Cristo. La festa di oggi è innanzitutto una festa cristologica. Grazie ai meriti del Figlio di Dio, Maria viene preservata dal peccato originale, come dice Don Toscopo, fin dal concepimento. Nel momento in cui Gioacchino e Dan hanno concepito Maria, è intervenuto il Signore che l'ha salvata. Dio interviene proprio in quel momento. Ecco perché i padri, e poi il Concilio, la chiamano la tutta santa, la che caritomene, la trasformata dalla grazia. Questo non significa, come dire, accentuare il privilegio o l'eccezione data a Maria, perché poi la gente potrebbe dire ma a lei ha avuto un privilegio. Invece questo rientra nel piano della salvezza. Proprio quello che dice Paolo, tutto questo è in funzione, è orientato alla nascita del Figlio di Dio. Lui è l'unico modello per gli uomini. C'è tutto un progetto di Dio orientato esattamente a portare all'umanità questa giustificazione. Maria riceve tutto questo già nel momento del concepimento. Lei è stata scelta dal Signore per essere l'immagine più pura, l'immagine splendente della Chiesa e dell'umanità salvata. Per cui oggi l'Immacolata Concezione che cosa ci manifesta? Questa assoluta e gratuita iniziativa del Padre. Maria fin dal concepimento è stata avvolta dall'amore che ridime e santifica. Ecco perché noi ogni anno con stupore leggiamo il testo dell'Annunciazione che durante l'anno leggiamo tante volte. Maria è la porta d'ingresso di Dio nella storia. Pensateci, Dio entra nella storia attraverso una piccola vergine di Israele che diventa poi la serva, quella che è la persona più intima di Dio. Il figlio di Dio entra nella nostra vita nascendo da una piccola vergine. Maria ha dato la propria carne al figlio di Dio e avrà Giuseppe come vero padre perché Maria è la carne di Giuseppe, quindi vera sposa. E l'angelo quando entra nella vita di Maria le annuncia tre grandi verità. Gioisci, rallegrati, sei stata trasformata dalla grazia, quindi dalla misericordia, del Signore è con te. Sono le tre parole che Dio le porta perché dentro di lei il Signore l'ha preparata perché lei immacolata, concepita e immacolata, potesse partorire al mondo l'immacolata della storia. Quindi lei è stata salvata e preservata dal peccato nel momento del concepimento. Ecco anche la missione che le annuncia il Signore. Il Signore è con te. Che cosa vuol dire? Lui farà nella tua vita grandi prodigi. Da te verrà l'Emmanuele, uscirà dal tuo grembo l'Emmanuele, il Salvatore. E l'angelo spiega a Maria chi sarà questo bambino. Sarà grande, sarà figlio dell'Altissimo, è l'erede del trono di Davide, è il vero re e il vero uomo. Il suo regno di pace non avrà mai fine, dice Gabriele, perché egli è il soterro, il Salvatore del mondo. E Gabriele stesso offre a Maria un segno. Ecco, vedi? Dio ha reso fertile, fecondo, il grembo di tua cugina Elisabetta che era sterile. E poi aggiunge pan rema, perché nessuna parola è impossibile a Dio. E Maria, davanti a questo annuncio incredibile, l'annuncio più importante della storia, è disposta a credere. Ecco perché dirà ma come avverrà? E ascolta ciò che l'angelo le dice. Alla fine dice io desidero che avvenga di me quello che hai detto. Eccomi, sono la schiava del Signore. Direi che Maria davvero, come Abramo nell'Antico Testamento, è il personaggio corredato di una grandissima fede. E chiede a noi oggi di fidarci di Dio, di servire Dio nei fratelli con umiltà e con gioia. Ci ricorda anche che il male alberga nel cuore dell'uomo. E quindi abbiamo bisogno che Dio ci liberi, ci purifichi da questo egoismo asfissiante che brucia non solo i nostri cuori ma distrugge il mondo. Perché ognuno di noi porta nel cuore un desiderio di libertà, di purezza, di bellezza. E sono desideri che Maria ha portato a compimento grazie allo Spirito. Maria oggi ci insegna ad abbandonarci totalmente a Dio. Perché se dipendiamo da Dio siamo davvero liberi e pienamente umani. Non si è liberi quando si fa quello che si vuole ma si è veramente liberi dice San Paolo quando facciamo quello che dobbiamo fare. La libertà consiste proprio in questo. Ed è Maria una semplice povera donna di Nazareth che noi poi onoriamo con tanti titoli a volte nemmeno li comprendiamo nel Magnificat però insomma la conosciamo bene. Io oggi vorrei dare un consiglio alle nostre amiche e ai nostri amici noi siamo TV di Padre Pio se andate all'epistolario io nel mio commentare lo riporto nel volume primo dell'epistolario in quattro volumi di Padre Pio nel volume primo nelle pagine 332 e 333 c'è un inno che Padre Pio raccolse da uno sesso di 11 anni in Ariano di Puglia che è tutto un inno alla lode dell'Immacolata Concezione che fa tutte le rime obbligate di madre e figlio mi leggo solo una strofetta vera madre io sono di un Dio che è figlio e sono figlia di lui benché son madre ab eterno egli nacque e pur me figlio io che nacqui nel tempo io egli son madre notate è in rima baciata meravigliosa fatta da un bambino che era posseduto di 11 anni e questo testo bellissimo riportato nell'epistolare di Padre Pio potrebbe oggi davvero farci capire l'essere quasi è comune tra madre e figlio perché l'essere dal figlio ebbe la madre e l'essere dalla madre ebbe anche egli figlio è il rapporto bellissimo che c'è tra Maria e il figlio vi consiglio di andarlo a leggere anche su internet troverete l'epistolario sicuramente o procuratevelo perché davvero questo inno è meraviglioso oggi potremmo insieme a Magnifica davvero contemplarlo per capire quanto sia importante che la nostra libertà sia essere attaccati a Cristo stare con Cristo dipendere da Cristo solo così siamo veramente liberi e veramente umani e noi auguriamo tutto questo anche ovviamente ai nostri telespettatori quindi ci uniamo a te padre Ernesto al tuo invito grazie anche per oggi ci ritroviamo nella prossima domenica di avvento che è la terza grazie a voi oggi San Pio di Pietralcina veramente preghi per noi e l'Immacolata che mamma di tutti ci tenga sotto il suo manto buona festa dell'Immacolata a tutti shalom anche a te shalom grazie a tutti